E' arrivata una stoppatissima per Andrea Costa sulla conclusione con grande sicurezza da parte di Reggiani Il pallone plana nelle mani di Agostini, Imola con la palla del pareggio Imola con la palla del pareggio, si prova Corcelli Da tre! L'ultimo Corcelli da tre! A 2.55 Segno al più uno Imola Pinta al tiro Bonaccini, su di Luiz e Marx, prova a rispondergli il numero 32 Ravennate E praticamente li tira in faccia Gran canestro, gran step back La giocata difensiva di Zilli viene vanificata purtroppo da una palla persa che genera questa schiacciata di Bonaccini Valentini viene costretto a rinunciare alla terminativa di penetrazione se la prende con il giro corsale Edrian, gran movimento su un perno, bellissimo Canale 3D Si butta dentro, meraviglioso, meraviglioso con la pirata al centro dell'area Intanto andiamo in cronaca super schiazzata di Aromando Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Woo!